Ismaele il Cracchiese dice Pino ho perso il lavoro per 15 giorni di malattia al mese potresti raccomandarmi per la fabbrica di Chalice dove lavoravi tu? Fatico questo. Altro scemo questo. Se oggi c'era un bel campionato. Si vede che con la pioggia vengono fuori. Secondo me si drogano tutti prendono qualche droga brutta proprio. Ragazzi voi fate una vita di merda ma vi rendete conto che fate una vita di merda o no? Cioè guardatevi allo specchio e spuntatevi in faccia da soli. Voi fate una vita di merda proprio. Si vede che quando piove escono. Escono quando c'è la pioggia.